Sabato e domenica prossimi Francesco Storace, Roberto Menia, ripercorreremo tutti insieme la storia, appunto dall'origine sino ad oggi, di una destra diffusa, presente nel territorio, intelligente, sognatrice e visionaria soprattutto. L'evento è organizzato attorno ad una mostra, una mostra fotografica curata da Quanzolina, storico esponente del movimento sociale e di avianza nazionale della città di Messina, che ha messo a disposizione la sua collezione inedita anche di fotografie che ripercorrono i momenti più salienti della destra politica messinese, con le foto di l'almirante a Piazza Cairochi, a Piazza Università e tanto anno. Attorno a questa mostra svilupperemo sei sessioni con sei tavoli rotonde, sei tavoli tematici su diversi argomenti. I tavoli che verranno coordinati da un altro esponente storico del MIS, Tuccino-Sapienza, sono sei. Il primo, al mirante, è il Movimento Sociale Italiano. Il secondo è una retrospettiva sul fronte della gioventù, azione giovani, sine giorni nostri, che sono i giovanili del Movimento Sociale e di avianza nazionale. Il terzo afferisce alla buona amministrazione, quindi un incontro con tutti gli amministratori che lasciano, hanno lasciato degli ottimi esempi o che attualmente amministrano. Questo per la giornata dell'11. L'indomani il 12, cioè un seminario sul sovranismo e patriottismo, che sono dei termini molto in voga oggi. E nel pomeriggio invece una retrospettiva su Almirante e Berlinguer. E chiuderemo magistralmente con la generazione 2020, cioè i giovani della destra italiana oggi, anche con particolare riferimento alle radici storiche nelle quali affonda la gioventù italiana.